Bene amici, piccola premessa, scusate l'assenza, ma prima di partire con la vera rassegna, con la ciccia, con tutte le novità dei prossimi giorni, beh, non so, avete notato? Tutti scandalizzati, opinioni pubbliche, giornaloni, ministroni, riccioli d'oro, Trenitalia, per quel caso vergognoso della comitiva di 25-27 disabili costretta a scendere dal convoglio, dal treno, perché i loro posti riservati, beh, erano stati occupati da barbari. Attenzione, la pochezza di certa umanità non è che un riflesso preciso, pulito, dei nostri vertici, di chi sta in alto. Per prima, la ministra Stefani, cosa fanno in alto per i disabili? Cosa stanno facendo? Nulla. I migliori, i migliori, si sarebbero alzati a telecamere accese? Sì, a telecamere spente. Credo forse di no. E dove sta l'emendamento promesso dalla senatrice Nunes per stoppare i tagli? Scomparso, la Nunes ha citato, riportato su Facebook solo il vecchio ODG, diciamo spacciandolo per nuovo, quello con cui il governo si impegna forse in un futuro molto lontano a risolvere. E dove stanno le associazioni che dovrebbero rappresentare gli invalidi, i disabili? Beh, a fare raccolte firme, pseudo inutili. Io sono Mr. Lul, adesso iniziamo veramente ma solo dopo la sigla e solo dopo che avrete lasciato un bel like. Vi sarete iscritti, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione e sigla. Cominciamo con una notizia incredibile. Stanno arrivando finalmente le tanto attese disability card. Wow, per ora un contenitore assolutamente vuoto almeno vi eviterà di dovervi portare in giro tutti gli incartamenti. E poi domani stop IMSS, o meglio, sciopero generale con vista su disagi. Caspita, anche qui vi sfido, ci accorgeremo della differenza tra disagi con sciopero o disagi quando lo sciopero non c'è? Io non credo. Però intanto, nonostante gli scioperi, escono nuove date per questo spezzatino di aprire nuove date di pagamento. Ad esempio, lo vedete qua, assegno universale per fine mese. Oggi stanno pagando degli attesissimi bonus bebè. E poi, Mr. Lul, ma è vero che RDC e assegno figli su RDC ad integrazione saranno anticipati? L'ha detto Tizio, l'ha scritto Caio. RDC è previsto per il 27 e l'assegno di lì intorno. Ma sempre rimanendo in tema IMSS, beh, c'è il nuovo direttore generale, Caridi. L'ha intervistato ADN Kronos e costui dice che la colpa di queste date a spezzatino, sempre diverse, non si capisce quando arrivano, non arrivano i pagamenti, misteri. Beh, per gli amici, diciamo, pagamenti ad casum, non è proprio di IMSS la colpa, ma dei fondi messi a disposizione dai ministeri, dalle finestre di pagamento della Banca d'Italia, probabilmente sarà colpa anche di mio zio, eccetera, eccetera. Insomma, furbino questo Caridi, non ci stupisce che sia arrivato lì dov'è. Ora, passiamo a quelli che sono i nuovi aiuti, i nuovi supporti, i nuovi bonus, quelli che stanno per arrivare per famiglie e imprese. Infatti, i migliori, in generale, le camere hanno dato l'ok al DEF, documenti di economia e finanza. Draghi, nel frattempo, è malato, ha preso il Covid, ma nonostante questo, essendo i migliori, continuano a lavorare. Ed è in arrivo, a brevissimo, un nuovo decreto, aiuti, da 5-6 miliardi, con cui non si farà niente, cioè si andranno a prorogare le misure che conosciamo già, quindi inutili bonus, inutilini sconti sulla benzina, forse nuovi bonus alimentari, sono ipotesi, bonus sociale potenziato, vedremo in quali termini appunto gli sconti sul carburante. C'è però di importante l'ok di tutti i migliori, di nuovo, ad un eventuale scostamento di bilancio, per fare di più. Vi ricordate la vecchia, antica canzone ormai? Per fare di più per famiglie, imprese, bonus, forse, onnicomprensivi, REM, chissà, o cos'altro si potranno mai inventare. In realtà, però, questo scostamento di bilancio per nuovi e fantastili aiuti arriverà solo e soltanto se la situazione dovesse peggiorare. Quindi, aspettiamo che le cose vadano ancora di più a catafascio, probabilmente con una bomba atomica, e poi, eventualmente, si andrà a prevedere uno scostamento con nuovi aiuti. Complimenti! Detto questo, come sempre, spero che la rassegna sia stata utile o quantomeno interessante, se è così, beh, fatemelo sapere qui sotto, con un commento, e poi, ovviamente, con un bel like, l'iscrizione, il campanone, l'abbonamentone, la condivisione, e noi ci vediamo alla prossima. Si spera presto. Un saluto, grazie. Da Mr. Lul